Ehi, lo sapete che esiste una polizza auto che si paga a rate mensili a tasso zero? Ma lo senti anche tu? Tasso zero? E ti dà anche servizi e sconti su diversi esami medici. Non ci credo. Neanch'io. Una polizza auto che mi dà anche lo sconto sugli esami medici. Scopri tutti i vantaggi e servizi della polizza auto a tasso zero di Unipolsai. Fai il tuo preventivo su unipolsai.it e in agenzia. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Incredibile ma vero.